...alberi, affinché voi siate proprio in postazione quasi diciamo sollevata, plastica o al cancello e da lì poi partirete, non starete fermi così, no? Ok? Marco? Yes. Fania, tu stai a loro luce, tu stai prima di loro. Se loro saranno raggiù, diventare raggiù te. Sì, ho capito, ma io sto... Sì, ho capito, ma io sto troppo con la dinamica dietro, non c'è troppo differenza. Ah, poi... Attenta. Ah, poi... Grazie a tutti.